Incontro ad alta tensione a Berlino fra Angela Merkel e Viktor Orban è la cancelliera che ha fortemente voluto il dialogo a quattro occhi con il premier ungherese nel tentativo di trovare qualche spiraglio di collaborazione in tema di accoglienza dei migranti da cui ripartire per le discussioni in sede europea, ma le posizioni restano distanti. Questo è probabilmente ciò che ci divide, ha detto Merkel. Per noi l'umanità è l'anima dell'Europa e se vogliamo proteggerla, se l'Europa con i suoi valori vuole giocare un ruolo nel mondo, allora non può semplicemente ignorare il bisogno e la sofferenza. Per Orban non si discute, la linea è frontiere chiuse, sa di essere maggioranza nell'Unione Europea e per di più Merkel è indebolita dall'essere scesa a patti con i falchi bavaresi della CSU per tenere in piedi il suo governo. Riteniamo ingiuste le accuse che ci vengono rivolte in Germania di non essere solidali, ha detto Orban. Voglio dirvi che 8.000 guardie armate ungheresi presidiano i confini 24 ore al giorno. Se non proteggessero le frontiere con Serbia e Croazia, arriverebbero in Germania ogni giorno dai 4.000 ai 5.000 migranti. La stiamo proteggendo, questa è solidarietà, una bella forma di solidarietà. Dal 2015 un muro separa il confine fra Ungheria e Serbia a bloccare la cosiddetta rotta dei Balcani. Orban ha più volte espresso la volontà di costruire un'altra barriera anche alla frontiera con la Croazia.